Nuove plafoniere e tecnologie più sostenibili che miglioreranno l'immagine del territorio, oltre che permettere un maggior risparmio energetico e ridurranno sensibilmente l'inquinamento luminoso. Il lungomare di Mondolfo si rifà in look grazie alla sostituzione dei vecchi impianti ormai obsoleti con tecnologie a LED di ultima generazione. A partire dalle prossime settimane è previsto l'avvio dei lavori sul lungomare di Marotta Nord e Piazza Roma, mentre per quanto riguarda Via Le Carducci, in cui dovranno essere eseguite opere più invasive, si attenderà alla fine dell'estate per non creare disagi alla stagione turistica. Lavori importanti per migliorare la sicurezza ma anche l'immagine del nostro territorio, in particolare ci concentreremo sulla zona mare. Le zone in cui interverremo sono il lungomare Fadi Bruno di Marotta Nord, Piazza Roma, Via Le Carducci, dall'incrocio con Via Parini fino a Piazza Roma e i giardini Le Undici Eroine. Un obiettivo dell'amministrazione comunale ha affermato il primo cittadino, Nicola Barbieri, che stiamo portando avanti. In tutti questi anni, a proseguito, abbiamo operato su più di 3.000 punti luce applicando LED di ultima generazione. E poi siamo andati anche negli anni ad intervenire in alcune strade del territorio che erano sprovviste di illuminazione, ad esempio Via Illica, Via Cesanense, il lungomare di Marotta Sud, quindi tanti interventi per riqualificare sempre di più la nostra città.